Aldo Moro è stato ucciso e questa è la volta giusta che va detta questa cosa perché faceva in Europa sì che non succedessero guerre e altre cosette del genere ed è bene che lo sappiamo e lo sappiate che sfidare la guerra vuol dire essere in pericolo e uno, due, la pace è la cosa più importante che possiamo avere senza la pace, è vero che non c'è la giustizia senza la pace ma non c'è la pace senza giustizia e quindi valgono entrambe le cose io vorrei che Michele e il professore Raniero Lavalle si lanciassero in questa impresa un po' pazzesca che hanno pensato, la più difficile che si poteva pensare e alla quale vorrei partecipare non per candidarmi da nessuna parte perché io credo di avere dimostrato che il cursus honorum non mi interessa però la pace sì, la pace è quella del cuore, quella che gli uomini meritano per tutti i loro confratelli perché siamo una sola cosa, la pace è ricordarsi che siamo uno e che finché ci sarà un bambino che piange o che affoga o che viene malmenato e finché ci sarà qualcuno a cui vengono rubati gli organi eccetera eccetera eccetera, non vi devo descrivere, siete molto esperti, noi non saremo mai in pace se anche non lo volessimo fare per gli altri facciamolo per noi io ho un figlio grande ormai quindi sono passata dall'altra parte niente mi può commuovere, sconvolgere perché lo so com'è la vita l'ho imparato alla signora a sei anni, io a sette avevo già capito che era meglio morire per primi per non vedere il dolore degli altri quindi io vi ringrazio, io ci sono per quel poco che so e posso fare e la pace è importante al di là delle parole pace non è una parola, è un sentimento del cuore e dell'anima